Oggi abbiamo firmato il rinnovo della Convenzione Italia-Corea tra l'Istituto Galilei di Iesi e il Joyong High School di Goyano, vicino a Seoul. È il primo accordo internazionale di partenariato tra una scuola coreana e una scuola italiana. Noi siamo stati già ad agosto a Seoul con un gruppo Erasmus, quattro ragazze del Galilei, del liceo economico-sociale, e adesso spieghiamo il dirigente e due insegnanti del liceo coreano, ospiti guayesi per una settimana, nell'ambito del progetto KISS, che è un progetto di partenariato di scambio culturale e linguistico. perché i ragazzi stanno creando un blog di cultura italo-coreana e lingua inglese.